Wrap up delle mie ultime letture Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Marianna e qui parleremo di libri Oggi un video wrap up, è un po' che non ne vedete uno su questo canale L'ultimo risale alle letture di dicembre e gennaio Perché stavo procedendo a bimestri Poi in quest'ultimo periodo ho letto meno del solito Quindi da febbraio a oggi siamo a maggio, metà maggio Ho letto soltanto 12 libri Che sono rispetto ai miei standard un po' meno E quindi ogni volta mi dicevo Ne accumulo un numero un po' più consistente e faccio un video E siamo arrivati a quel punto Perché 12 letture sono un bel po' Ho fatto su Instagram un sondaggio per vedere Se preferivate un solo video più lungo con tutte le letture O due video più brevi Ha vinto il video lungo E quindi oggi vi subite questo sprologo un po' più lungo Con varie letture In realtà non parlerò proprio di tutte e 12 Due le metto da parte Uno è Nessuno torna indietro di Alba de Sespedes Sarebbe il libro per il GDL Upsilamba Vi lascio sempre tutte le info sul GDL Un gruppo di lettura ci tengo particolarmente Un gruppo di lettura che tengo insieme a Cristina Che trovate su Instagram come Chris Chris un cuore tra i libri E nel mese di maggio e giugno Stiamo leggendo la storia di Elsa Morante Quindi quelli che tra di voi temono questo romanzo E hanno bisogno di un supporto, un sostegno Possono aggiungersi al canale Telegram E condividere con noi questa esperienza di lettura Quindi dicevo, Nessuno torna indietro Ho avuto già il suo video Vi lascio anche in questo caso il riferimento E volevo fare un video a parte Per la Casa degli Spiriti di Isabella Allende Perché è una rilettura Quindi volevo parlare un po' dell'esperienza Della rilettura e in generale di questo romanzo Anche perché ad Isabella Allende Ho già dedicato un Tre Libri D Quindi mi faceva piacere partire da quel video Fare un confronto tra quello che mi ricordavo E quella che poi è stata la rilettura Quindi oggi parlerò soltanto di 10 libri Mettetevi comodi Prima di cominciare vi ricordo Che potete seguirmi anche su Instagram Mi trovate come Manny Illiano E di iscrivervi soprattutto al canale E attivare le notifiche Così da avere la notifica Quando esce un nuovo video Bene, ci siamo Penso di aver detto tutto Possiamo cominciare Prima di passare all'analisi Dei vari libri che ho letto Volevo preannunciarvi Che tra questi ci sono dei titoli Che hanno avuto le 5 stelline Quindi libri che mi sono piaciuti tanto E ci tengo particolarmente a condividere con voi Queste letture E tra questi libri che vedremo oggi C'è molta varietà Abbiamo saggi, letteratura classica Letteratura contemporanea Libri usciti proprio quest'anno Quindi c'era un po' per tutti i gusti Spero dunque di venire un po' incontro Ai gusti e alle curiosità di tutti voi Il primo libro di cui voglio parlare Venivamo tutte per mare Di Giulio Otsuka È un libro molto breve 150 pagine Che avevo preso tempo fa Infatti faceva parte della mia sfida Dello scaffale strabordante dell'anno scorso Ma li sto leggendo adesso Praticamente quei titoli E mi ha aiutato molto L'audiolibro Ho trovato l'audiolibro su Storytel E quindi Diciamo che Tra questi libri ci sono anche degli audiolibri Che però ho anche letto in cartaceo Perché avevo sia il cartaceo che l'audiolibro E questo mi ha facilitata Venivamo tutte per mare È un romanzo dalla forma narrativa Veramente particolare Perché l'autrice sceglie di utilizzare La prima persona plurale Quindi la voce narrante è un noi Qualche parola sull'autrice Giulio Otsuka è una scrittrice statunitense Di origine giapponese Che si è occupata in particolare Proprio di rivedere la storia Dei giapponesi emigrati negli Stati Uniti Lei vive in California L'America occidentale È più protesa verso l'Oriente E quindi è terra di immigrazione Per le popolazioni giapponesi Cinesi, orientali in generale E quindi lei Facendo una ricerca nella sua famiglia Ha voluto rendere omaggio A queste donne Soprattutto che sono arrivate Negli Stati Uniti Nel primo novecento La storia è quindi condotta Attraverso un narratore plurale Collettivo È una storia molto corale Non c'è un protagonista Sappiamo anche pochi nomi Delle persone coinvolte in questa vicenda E devo dire che sia la struttura narrativa Che la trama Che l'ambientazione Mi hanno portata a collegare questo romanzo Ad altre letture che avevo fatte Mi hanno stimolata a leggere altri titoli Infatti vedremo quali sono poi i romanzi Che mi ha evocato questa lettura Ma tornando alla trama Di cosa parla questo romanzo Si parte dal Giappone E un gruppo di donne Devono allontanarsi Dalla propria terra natale Per un futuro migliore Sono state date in spose Infatti a degli uomini giapponesi Che già vivono in America da molto tempo Arrivano per loro Delle fotografie di questi mariti Sono dei giovani ragazzi Fotografie promesse Quindi loro lasciano I loro genitori La loro famiglia Tutto ciò che hanno di caro Sperano in un futuro migliore Purtroppo le aspettative Non vengono soddisfatte Questi uomini infatti Hanno mandato loro delle fotografie Di quando erano molto più giovani Le fotografie di amici più avvenenti Quindi si trovano dinanzi Molto spesso a vecchi O a uomini poco affascinanti E soprattutto Non sono in grado Di garantire a loro Quella stabilità economica Quella condizione sociale Che loro tanto speravano Di poter trovare in America E quindi queste donne Sono costrette a lavorare Chi lavora nei campi Chi lavora come domestica Presso alcune famiglie E chi invece Addirittura si prostituisce Quindi noi seguiamo Questo viaggio Ogni volta affrontiamo Un esito diverso E il libro è diviso in capitoli Quindi poi a un certo punto Si parla dei matrimoni Dei figli Delle donne che lavorano Presso le altre famiglie E del rapporto Che si inizia a stabilire Con gli americani Che dapprima sono diffidenti Poi iniziano a vedere Nei giapponesi Delle persone affidabili Leali Pulite Delle persone Su cui si può contare Le cose poi cambiano Con Pearl Harbor Perché Come sappiamo Da questo evento storico I giapponesi Vengono considerati Il nemico E questo li fa ripiombare Tutti questi Immigrati In una condizione Di emarginazione È un capitolo Della storia Molto interessante Perché ci fa vedere Gli Stati Uniti Dagli occhi Di appunto Dei giapponesi Una popolazione Che non siamo soliti Associare Agli Stati Uniti Quando si parla Di emigrazione Negli Stati Uniti Siamo più portati A pensare I latinos Oppure al problema Dell'integrazione Del razzismo Con Gli afroamericani E questa prospettiva E questa prospettiva Invece Secondo me È molto Interessante E poi ci fa vedere Come sia difficile Conquistare La fiducia Difficile Crearsi Un proprio mondo E quanto Basti poco Per far crollare Tutto E ci rimando Ovviamente Anche agli anni Della Seconda guerra mondiale L'utilizzo Di questo Espediente Diciamo Narrativo Della prima persona Plurale Di questo Narratore Intradiegetico Devo dire Che all'inizio Ti cattura C'è un Un effetto Di immediata Immedesimazione Con questi personaggi Però alla lunga Secondo me Stanca un po' Un po' Perché non ci si affeziona Un solo personaggio E quindi Si cambia sempre Prospettiva Un po' Perché è proprio Monotono Questo noi E secondo me È giusto Che il romanzo Sia così breve Proprio perché Non si potrebbe Sostenere Una trama Con Questa Scelta narrativa Accenniamo la luce Perché anche se è giorno Qui c'è un temporale Quindi vabbè Dicevo L'utilizzo del noi Mi ha fatto venire in mente Altre storie In cui Autori e autrici Decidono di utilizzare Questo tipo di narratore In particolare Mi è venuto in mente Gli anni Di Annie Ernaux Su Annie Ernaux Anche ho fatto Un tre libri di Ve lo lascio qui Da qualche parte In cui La scrittrice Racconta la storia Della sua vita Della sua infanzia Attraverso appunto Questa prima persona Plurale In noi serve appunto A far entrare Di più I lettori Vi faccio un esempio Un po' Banale Si portava Qualche tempo fa Su facebook Soprattutto Quegli stati In cui dicevano Noi che facevamo Merenda Con un pari pomodoro Noi che I ragazzi Del muretto Quegli stati Avevano molto successo Perché le persone Subito si identificavano In un gruppo Quindi Quell'idea di coinvolgere Una collettività Non raccontare Un'esperienza singola Individuale Ma raccontare qualcosa Che coinvolga Più persone Quindi sicuramente Questo è un punto forte Mi è piaciuto molto Gli anni di Annie Ernaux Ne parlo poi Nel video Anche perché Secondo me Qui l'autrice Riesce a Dosare bene La componente Individuale E quella collettiva Un altro caso Di utilizzo Del noi È Trilogia Della città di K Di Akota Christoph Un romanzo Diviso in tre parti I cui protagoni Si sono due gemelli Questo romanzo L'ho letto Ai tempi del liceo Quindi ho un ricordo Molto vago Mi perdonerete Quindi se non sarò Precisa Ma quello che mi colpì Sicuramente Fu il cambio Di narrazione Che avviene In queste tre parti Del capitolo Perché se non mi sbaglio Il primo A parlare Sono tutti e due gemelli Nel secondo Soltanto uno E poi nel terzo C'è la terza persona Singolare Comunque dovrebbero essere Questi tre punti di vista Quindi anche qui L'autrice Utilizza Quest'espediente In questo caso Non per raccontare Un'esperienza collettiva Quanto piuttosto Per rendere Il legame Così intimo E profondo Che lega I due gemelli Quindi utilizza Questo noi E il lettore Non riesce a capire Chi fa cosa Un altro caso Di utilizzo Di una persona Che non è Nella prima Nella terza È Nella casa dei tuoi sogni Di Marina Machado Un libro Di cui Non ho parlato Sempre molto bene Perché non mi è piaciuto tanto Però Ve lo segnalo Perché in questo romanzo L'autrice Sceglie di utilizzare La seconda persona Singolare Cioè il tu E dice Tu hai fatto questo Tu hai fatto quello Tu pensavi Però si rivolge A se stessa Anche qui Molto particolare Quindi Vi dicevo Questo romanzo Mi ha fatto riflettere Su altre storie E per quanto riguarda Tram e ambientazione Mi ha riportato alla mente Il gusto proibito Dello zenzero Di Jamie Ford Anche questo Un romanzo Di qualche anno fa Che ho letto Qualche anno fa E che mi piace molto Un romanzo storico Ambientato Negli Stati Uniti Proprio Diciamo Negli anni Della seconda guerra mondiale Quando i giapponesi Vengono aditati Come nemici E la storia d'amore Tra un cinese E una giapponese Questo ragazzo cinese Si innamora Di una ragazzina giapponese E vengono Ostacolati Dalla società E anche dalla famiglia Perché la famiglia cinese Non vuole che si associ A quella giapponese C'è tutta poi Una costruzione particolare Perché c'è un Diciamo Un confronto Tra il Il presente E il passato E un romanzo Storico D'amore Una storia Che vi consiglio Sicuramente Un altro Rimando Che mi ha portato Insomma Un altro aggancio Che mi ha Fatto venire in mente Questo romanzo È sicuramente La figlia della fortuna Di Isabella Allende Che fa parte Della trilogia Che vede Come romanzi Di ritratto in seppi E la casa degli spiriti Sono tre romanzi Che si possono Tranquillamente Leggere singolarmente Ma all'interno Dei quali I personaggi Sono legati Da Insomma Da filiazioni Da genealogie Familiari La figlia della fortuna Racconta Di Elisa Una Giovane Ragazza Cilena Che scappa Dal suo paese Per inseguire L'amore Arriva negli Stati Uniti Arriva a San Francisco Siamo nel 1800 E quindi Lì incontra Tao Che è orientale Si innamora E nasce Una storia D'amore Tutta quella Costruzione Di San Francisco Con gli immigrati Con persone Provenienti Da varie parti Mi ha fatto Venire in mente Cioè Mi ha fatto Trovare Il ponte Con questa storia E proprio per questo Mi è venuta in mente Di quanto mi era piaciuto La figlia della fortuna Che ho letto Qualche annetto fa E mi sono detta Dovrei leggere Il ritratto in seppia Che è il continuo Vi spiego brevemente Com'è questa trilogia Cioè Lei ha scritto Prima la casa degli spiriti Poi la figlia della fortuna Poi il ritratto in seppia Ma l'ordine urologico È la figlia della fortuna Ritratto in seppia La casa degli spiriti Quindi io Avevo letto Tantissimo tempo fa La casa degli spiriti Qualche anno fa La figlia della fortuna Ho voluto leggere Il ritratto in seppia Il ritratto in seppia È la storia di Aurora Che è la nipote Di Elisa Protagonista Di La figlia della fortuna Ovviamente qui cambia Un po' tutto C'è questo input Questo legame Di sangue Insomma Con il libro precedente Ma cambia Ambientazione Ovviamente cambia Anche l'epoca storica Aurora Aurora è la voce narrante Che si chiede Cosa sia successo Nel suo passato Perché lei Non è consapevole Di molte cose Che sono successe Durante la sua infanzia Ha questo ricordo Ossessivo Quest'immagine Anche violenta Che le torna in mente E poi nel finale Si scoprirà Si chiuderà il cerchio E si capirà Che cosa è successo In qualche modo Legandosi Anche alla figlia Della fortuna Aurora è una giovane donna Cresciuta da Paolina del Valle Una signora Molto ricca Che ha saputo Fare fortuna Perché è stata Un'imprenditrice Molto intelligente Che ha fatto Delle scelte Insomma Sempre giuste Sempre indovinate A livello lavorativo Meno a livello sentimentale Ha dei figli Di un nipote E sceglie Di accogliere Aurora Che è sua nipote Nella sua famiglia Aurora quindi Cresce Con questa nonna Tra il Cile Poi fanno un viaggio In Europa Poi vanno negli Stati Uniti Quindi tutti i romanzi Di Isabella Allende Sono sempre Molto avventurosi Coinvolgono Vari personaggi Varie situazioni Anche Varie ambientazioni La cosa bella Di Aurora È che lei Una donna Come molte protagoniste Di Isabella Allende Una donna Indipendente Autonoma Con delle passioni Lei infatti È fotografa Per questi ritratto In seppia Una passione Che all'epoca Non era affatto Scontata Per una giovane donna Ma lei riesce A portarla avanti Però lei non riesce Ad avere figli E questa cosa Se da un lato La fa soffrire all'inizio Poi riesce A trovare Un'altra strada Infatti c'è una frase Molto bella Dice Io non sono sterile Sono fertile Sotto altri aspetti Quindi questa sua Questa sua dimensione artistica Questa sua capacità Di esprimersi In altri modi E attraverso Aurora Quindi vedremo Un po' La società Cilena Ma anche Quella europea Perché vi ripeto Lei andrà in Europa Ci sono riferimenti Alla guerra del Pacifico E poi lei è Nipote Figlia adottiva Di Severo del Vaglie Che sarebbe il padre Di Clara e Rosa del Vaglie Protagonista Della Casa degli Spiriti Quando io ho letto Che nascono Clara e Rosa A un certo punto Nel romanzo Mi sono ricordata La Casa degli Spiriti Ho detto Voglio leggere La Casa degli Spiriti E quindi ho riletto Questo libro Concludendo un po' Il cerchio della trilogia Vi dicevo Sono tre romanzi Che danno un affresco Della storia Del Cile Tra il metà ottocento E gli anni Ottanta Del novecento Quindi un secolo Di storia Attraverso figure Femminile forti Attraverso anche Un racconto Delle guerre Dei disordini sociali Politici Dell'epoca Quindi Un affresco Veramente affascinante Con la penna Di Isabella Allende Che è in grado Di mescolare La magia Alla realtà Più cruda Questo suo realismo magico Che è così conosciuto Quindi Ritratto in seppia Anche Mi è piaciuto tanto Il primo libro Che vedremo Da cinque stelline Ovviamente La Casa degli Spiriti Che ho riletto E in parte Ascoltato Anche quello Da cinque stelline Altro titolo Da cinque stelline Altro romanzo Della mia sfida Dello scafaleo Strabordante Dell'anno scorso Che volevo leggere Da tempo È La lettera scarlatta Di Nathaniel Outorn Un romanzo Del 1850 Che Diciamo Tradizionalmente Viene indicato Proprio come Il capostipide Dei romanzi Della letteratura americana Perché per la prima volta Un autore Statonitense Sceglie di raccontare Una storia Profondamente Legata All'ambiente Americano Quindi Che non risente Dell'influenza Dei romanzi Inglesi È una storia Probabilmente Molto nota Io non ne sapevo Molto Sapevo cos'era La lettera scarlatta Però Forse mi aspettavo Altro E mi ha colpito Invece In positivo È una storia Dalla prosa Ovviamente È uno stile Ottocentesco Quindi molto più Ricercato Rispetto a uno stile Contemporaneo Che Mi è piaciuta molto Allora Il romanzo Si divide in due parti La prima Si chiama La dogana E A parlare Un alter ego Dell'autore Che si trova a Salem E appunto Lavora come doganiere Si trova lì Nella sua città natale Ci sono delle pagine Bellissime Del rapporto Tra lui E il ritorno In questa città natale Che cosa significa Significhi per lui Rivedere quei luoghi Che significato Assumono quei luoghi Nella sua memoria E nella sua vita Lavora in questa dogana Ci racconta un po' Di tutti i personaggi Che ci sono In questa dogana E vari lavoratori E lo fa con Una precisione Veramente Affascinante E coinvolgente A un certo punto Però Nella noia Di questo lavoro Lui si addentra In una soffitta E scopre Dei documenti Delle carte E questa lettera Scarlatta Cioè proprio Un ricamo Una scarlatta Che al solo contatto Gli provoca Proprio un bruciore Quindi si incuriosisce E va a scavare In questi documenti L'espediente Del ritrovamento Del manoscritto Dei documenti Insomma È tipico Dei romanzi Dell'ottocento Questa doppia Scrittura Quindi una cornice In cui c'è Il 1800 E poi il 1600 Che cosa vi fa venire in mente? Ovviamente Manzoni Promessi sposi Anche lì c'è Il ritrovamento Del manoscritto E la storia Ambientata nel 1600 Diciamo che Sono vari I romanzi Di quell'epoca Che scelgono Di anticipare Insomma Di traslare Le vicende In epoche più lontane Per parlare Però anche Della società Attuale E dove sceglie Di ambientare Quindi la sua storia Outward In una colonia puritana Del New England Del 1600 Quindi sempre Nel New England Come appunto La Dogana Però Quando ancora Il puritanissimo Era dominante E molto forte Ma attraverso Questa critica Al puritanissimo Del 1600 Lui vuole far riflettere Ancora su degli aspetti Che si vivono Nel 1800 Su quello che Rimassi Ritaggi Di questa Cultura Così moralista E ipocrita Tra l'altro Lo stesso autore Nella sua storia familiare Ha avuto dei giudici Che hanno Condannato Delle donne Per adulterio E hanno partecipato Anche al processo Alle streghe Di Salem E lui per staccarsi Da queste persone Ha deciso di aggiungere La W nel suo cognome Proprio per segnare Per marcare la differenza Rispetto ai suoi avi Che si sono macchiati Di questi crimini Nella colonia puritana Del New England Abbiamo Esther Prynne E la storia si apre Proprio con il suo processo Lei è all'agonia Esther Prynne Una donna giovane Molto bella Che è rimasta da sola Perché il marito E' sparito Non si sa dove sia E rimane incinta Quindi è un adultera Insomma Chi è stato A metterla incinta Lei ha questa bambina E non vuole dire pubblicamente Chi è stato il suo amante Per proteggerlo Perché poi scopriremo Chi è l'amante Esther Prynne Quindi mantiene La sua degnità Subisce il suo supprizio Che è appunto L'agonia Il patibolo E l'esclusione sociale Si ricama da sola Questa lettera scarlatta Anche perché lei è un'abile Cucitrice Quindi questa lettera scarlatta Diventa quasi un vezzo A un certo punto E viene abbandonata Ai margini del villaggio Con la figlia Cioè lei non può vivere Insieme agli altri Deve vivere in una casa Un po' In disparte Però lei con la sua Con le sue capacità Con le sue doti Da cucitrice Ma non solo Anche da donna Che ha sofferto E che quindi capisce il dolore Riesce pian piano A reinserirsi In qualche modo Nella società C'è la figlia Questa bambina bellissima Che le ricorda Sempre il peccato Io ho trovato bellissime Le pagine dedicate Alla figlia E a un certo punto Però le cose si complicano Perché Il mare già torna Vuole vendetta E c'è anche l'amante Non voglio dire di più Perché Vi svelerei tutta la trama C'è però Un aspetto Che mi ha fatto Molto riflettere Di questo romanzo Che secondo me Per alcuni Può risultare Un po' pesante Un po' distante Dalla nostra realtà Questa colonia puritana È veramente Molto rigida Moralista Bacchettona Nei confronti Di questa giovane donna Che poi alla fine Non sapeva nemmeno Che fine avesse fatto Il marito E quindi Un po' Sentiamo Il distacco Dall'alto Della nostra modernità In realtà Io Non penso Che sia così Distante Ovviamente Non voglio dire Che oggi ci sia Il patibolo E l'agonia Però La tendenza A giudicare Le persone Nella loro vita Privata E sentimentale Secondo me Continua a esserci Un esempio Proprio Quando stavo leggendo La lettera scarlatta Era scoppiato Il caso di Shakira e Piquet Comunque se ne parlava Ancora E il modo in cui Sono stati trattati Piquet e Clara Non mi sembra Insomma Tanto moderno Anche perché Loro sono stati Cacciati Dai ristoranti Lui è stato Fischiato Negli stadi Quindi quest'idea Che la gente Deba giudicare Le persone Deba entrare Così tanto Nella loro vita Privata Leggevo la lettera scarlatta Dicevo Non è tanto distante Da adesso Non so se sto dicendo Qualcosa che Per voi risulta Assurda È un ragionamento Un po' più Più complesso Comunque Ovviamente C'è l'idea Che Di fronte a questa Questione Di Shakira e Piquet Bisogna dare un'opinione Dire la propria Però lui E stai lei La marmellata Insomma Accettare Quello che ci viene Dato in pasto E criticarlo Giudicarlo Senza porsi Il problema Secondo me Non fa di noi Una civiltà Non più evoluta Della colonia Puritana Inglese Insomma Spero che Qualcuno di voi Mi risponde Insomma Mi fate sapere I vostri commenti Soprattutto se Avete letto La lettera scarlatta E al di là Di questa questione Che ho banalizzato Con la questione Di Shakira e Piquet Però mi interessava Perché Mi interessava Vedere quanto Per agire Per sembrare Degna Agli occhi Della società Poi Si siano fatte Le rinunce Nel corso Dei secoli scorsi Ma se ne fanno Ancora oggi Ovviamente Non come quelle Però Secondo me La gogna Sociale Pur non essendo Concreta Come all'epoca Continua Ad esercitare Un suo potere Fatemi sapere Cosa ne pensate Cambiamo genere Altro romanzo Da 5 stelle Non si tratta Di un romanzo Anzi È una raccolta Di racconti Quindi come se Fossero quattro romanzi E sto parlando Di stagioni diverse Di Stephen King Allora Io Se mi seguite Lo sapete Leggo ogni anno Un libro di Stephen King Quest'anno Mi ero detta Di leggere Vabbè è una raccolta Di romanzi Senza nemmeno fare caso Siccome c'era un ebook Alla mole Anche perché a volte L'e-reader Ti dice un numero di pagine Che poi Non è mai corrispondente Alla versione cartacea Quindi pensavo di leggere Un libricino Un po' più Snello Di Stephen King In realtà è un libro Comunque da 600 pagine Perché al suo interno Contiene quattro Racconti Lunghi Infatti lui stesso Poi ne narra La vicenda editoriale Dice Non riuscivo A farli diventare Dei romanzi Ma non erano Nemmeno dei racconti Poi alla fine L'editore Ha accettato Questa sfida Ed è stato Uno dei titoli Comunque Di più successo Di Stephen King È una raccolta Del 1982 Sono quattro racconti Da questi quattro racconti Sono stati tratti Tre film Di grande successo Questo per dire La capacità Inventiva Creativa Di Stephen King Che ogni volta Che scrive Delle storie Riesce a creare Dei mondi Anche perché Questi quattro Racconti Sono molto diversi L'uno dall'altro Il titolo È stagione diversa Perché ogni racconto Corrisponde A una stagione Il primo È La primavera Della speranza E è stato tratto Le ali della libertà Un film molto famoso Molto bello Io l'avevo visto Tempo fa Me lo ricordavo Abbastanza Non mi capita mai Di vedere un film E poi leggere il libro Ho fatto un'eccezione Devo dire Che il film Al quanto me ne ricordo È abbastanza Fedele Ci parla di Un uomo Che si trova Giustamente Ingiustamente In Incarcerato E È Un uomo Molto intelligente Che lavorava Per le banche E che Quindi cerca Un modo Per Scappare da lì Ma non solo Perché lui In un certo senso Grazie alla sua Intelligenza Saprà Cavarsela In un mondo Molto ostile Come quello Del carcere In cui Verrà assoprato O violentato O preso di mira Più volte Ma Riuscirà In qualche modo Anche a Tenersi buoni capi A gestire Una biblioteca E soprattutto A intrecciare Un'amicizia Molto Stretta E molto Commovente Con Un altro Detenuto E Il protagonista Ha un sogno Diciamo Ha questa Retire Il poster Di Retire Nella sua Stanza Ed è l'unico Vezzo Che ha Insieme Alla raccolta Di pietre E di metalli All'inizio Non capiamo Come siano legati Queste due cose Non capiamo Bene A cosa Servano E poi Alla fine Si scopre Ma non dico più niente Se avete visto il film Lo sapete È una storia Bellissima Poi Le ambientazioni carcerarie A me Piaciono molto Sia nei libri Che nei film Non è che mi piace Perché mi fanno riflettere Molto Sulla giustizia Sulle punizioni Insomma Sono tematiche Secondo me Sempre molto Interessanti Da approfondire Quindi Assolutamente Consigliato Il secondo racconto Invece È un ragazzo Sveglio È stato tratto Il film L'allievo E qui ci troviamo Invece In un altro contesto Una provincia americana In cui c'è questo ragazzo Sveglio Molto intelligente Bravo a scuola Che però Ha una piccola ossessione Che poi diventa Una vera e propria mania Ossia Studia La seconda guerra mondiale In particolare Il nazismo E scopre Che proprio Vicino casa sua Abita un ex Gerarca nazista Ovviamente Sotto mentite spoglie Lui Scopre Il segreto Di quest'uomo Si presenta Da lui E inizia A ricattarlo Ma il ricatto È veramente Inquietante Cioè Lui chiede All'uomo Il ricatto È Mantengo Segreta La tua identità Se Se tu Mi racconti Le storie Dei campi Di concentramento Nei dettagli Più Crudi Più Atroci Insomma Voglio sapere Che cosa Facevate E Questi racconti Il vecchio All'inizio Si rifiuta Perché cerca Di staccarsi Da quegli anni Ma poi Provano una certa Morbosità Un piacere Morboso A rievocare Quelle scene E Queste scene Poi il ricordo Di queste scene Influisce Sulla vita quotidiana Di entrambi E fa emergere La parte più Malata Di questo Ragazzo È Una storia Proprio Sulla doppia Identità Del Perché Sia il ragazzo Che Il vecchio Si mostrano al mondo In un modo Ma poi Nei loro pomeriggi Che gli altri Sanno di lettura Di romanzi Stanno lì A scavare Proprio nel male Nel male Dell'animo umano A indacarlo fino in fondo E a viverlo Sulla propria pelle E Sulla pelle Degli altri Quindi È una storia Molto morbosa Inquietante Che all'inizio Diciamo Io all'inizio Non mi aspettavo Che prendesse Questa piega Così Atroce Perché Lui Comincia Come un ragazzino Un ragazzino Che ha delle curiosità Un ragazzino Che Si mostra Così Ben voluto Da tutti E poi La capacità Di Stephen King Di mostrarci Sempre Dove si annida Il male Dove meno Ce lo aspettiamo Non ho visto Il film Mi sembra Che sia anche Un po' difficile Da trovare Prima o poi Forse Lo vedrò Però Secondo me È una storia Molto interessante Perché Tratta Delle tematiche Non così esplorate Da Stephen King Almeno Nei libri Che ho letto Io C'è appunto Quella del Nazismo E tratta Proprio Come nasce Il male In alcune In alcune persone Quindi Anche questo Racconto Bellissimo Poi veniamo Al terzo Che poi È il racconto Che io Volevo leggere Più di tutti Che è Stand by me Il corpo E mi pare Che sia la soggione Sia l'autunno È un Un racconto In cui Stephen King È del meglio Perché i protagoni Si sono un gruppo Di amici Di ragazzini Ci troviamo Alle scuole medie Più o meno Fine scuole medie Inizio Liceo Questi ragazzini Siamo negli anni 50 Devono fare Una gita Anche qui Il motivo Della loro gita È qualcosa Di macabro Si è scoperto Infatti Che un ragazzino Scomparso È stato ritrovato Sui binari Della stazione Morto Da i fratelli Più grandi Quindi ancora Non è una notizia Diffusa E loro vogliono Andare lì Prima che si scopra Per vedere Questo cadavere Quindi Diciamo Il motivo Di questo Loro viaggio È un motivo Assolutamente Macabro Ma in questi due o tre giorni Che loro passeranno All'avventura Per andare Verso Questo corpo Loro scopriranno Il legame Dell'amicizia Il valore Dell'amicizia Poi c'è Tutta una parte Insomma C'è un ragazzino Che scrive racconti Che racconta storie E a un certo punto C'è proprio il racconto Cioè Leggiamo proprio il racconto Che lui racconta Agli amici Durante il falò Della notte E ricorda molto It Ricorda molto Quello che poi sarà Il romanzo Perché è successivo Capolavoro Di Stephen King Lui è veramente Molto bravo A raccontare Queste storie Di ragazzini E c'è anche Il tema Del bullismo Del rapporto Insomma Con i fratelli Più grandi Che li bullizzano E delle famiglie Disfunzionali Con problemi Di vario tipo Io Ovviamente Ci vedi proprio Tutti quegli elementi Che poi vedrai In it Però In una storia Più breve Senza La componente Paranormale Ovviamente Molto presente In it Invece qui È tutto Molto più Reale La paura È solo ciò Che si immagina Loro nel bosco Di notte Che sentono Delle urla Il corpo Che sta lì Che rappresenta Quasi qualcosa Di affascinante Ma poi Quando lo vedono Si rendono conto Della tristezza Di questo Questo è quello Più Assurdo Ci troviamo In una specie Di società Segreta Quest'uomo Che viene Invitato Dal proprio capo A partecipare A questo club In cui c'è Una sorta Di maggiordomo Molto strano E ambiguo I membri Si riuniscono Lì E poi Ogni anno Devono raccontare A Natale Una storia Horror E uno di loro Racconta Questa storia Il metodo Di respirazione Di una donna Incinta È molto cupo Ha queste tinte Molto paranormali Rispetto agli altri tre Perché c'è proprio Sia questo Questo club Ha qualcosa Di ambiguo Di sospetto Non si capisce bene Quante stanze Ci siano Non si capisce bene Questi personaggi Chi sono Chi è Che sta lì Perché Da quanto tempo Stanno lì Quindi già Quello è molto inquietante E poi Il racconto In sé È il racconto Di una donna Una giovane donna Incinta Single Che quindi Deve portare avanti Questa gravidanza E viene aiutata Dal ginecologo Che racconta Questa storia Con un finale Veramente impressionante Non ve lo dico Però Insomma Colpisce molto E rispetto agli altri C'è proprio Questa differenza Della componente Paranormale Quindi Mi è piaciuto molto L'esperienza Insomma Dei racconti Con Stephen King Non l'avevo fatta Non si tratta Di veri e propri I racconti brevi Perché sono Dei piccoli Romanzi A tutti gli effetti Ve lo consiglio assolutamente Mi è piaciuta pure La parte finale In cui Stephen King Si rivolge direttamente Al lettore E gli augura Di fare altre letture Di tornare poi Da lui Cosa che io farò Sicuramente Questo video è lunghissimo Ma l'avete voluto voi Io sto ancora Insomma Ci vogliono ancora Un po' di libri Cambiamo un po' Con un saggio Specchio delle mie brame La prigione della bellezza Di Maura Gancitano Che io seguo su Instagram È una filosofa Che tratta argomenti Molto attuali Molto spesso Interviene Nei dibattiti Più accesi Insomma Che riguardano La società La famiglia Il lavoro Le donne Soprattutto E in questo saggio Molto breve Anche questo Sono 150 pagine Lei affronta il tema Dell'aspetto fisico Dell'esteriorità Nella società Contemporanea Il riferimento Ovviamente È il mito Della bellezza Di Naomi Wolf Io non l'ho letto Ma insomma L'autrice Rimanda molto spesso A questo titolo E lei Lo attualizza Facendo anche Dei riferimenti Al mondo dei social Di quanto Questi abbiano influito Poi sull'idea Della bellezza Fa un resoconto Insomma Dell'aspetto fisico Sia per gli uomini Che per le donne Dell'industria Dell'abbigliamento Dell'industria cinematografica Di quanto Quest'idea Della bellezza Sia mutevole E assolutamente Non oggettiva Cosa Che invece Non vogliamo Trovare dei canoni Che siano oggettivi A tutti i costi Imporre un modello Unico Nel quale Poi non riusciamo A rispecchiarci E questo poi Ci fa soffrire E come La bellezza Poi sia legata Anche all'economia Al potere Che gli uomini Hanno esercitato Sulle donne Nel corso Dei secoli Anche perché Appunto L'industria Di moda Anche quella Cinematografica Sono state Portate avanti Dagli uomini Che hanno voluto Imporre Il loro modello Sulle donne Secondo me È un ottimo Testo Un ottimo Approccio Iniziale Per queste tematiche Ovviamente Mi è venuta voglia Di leggere Naomi Wolf Il miso Della bellezza Non so quando Lo farò Però È una tematica Che mi Mi affascina E secondo me Dà sempre Spunto Per riflessioni Veniamo adesso Al romanzo L'unico Che ha preso Una sola stellina Anche qui Non mi è piaciuto Per niente Se avete questo Su Instagram Mi avrete vista Lamentarmi Di questo Titolo Che è Sfacello di René Barjavel Un autore francese Questo è un romanzo Del 1943 È un autore francese Che scrive Soprattutto di fantascienza Allora Il mio rapporto Con la fantascienza È un po' Tormentato Nel senso che Mi piace Di più Quella classica Ogni tanto Mi avvicino E poi Rimango sempre Delusa Non è il mio genere Non mi voglio rassegnare Sono sempre lì A cercare Una storia Che in qualche modo Soddisfi le mie Aspettative Perché gli ingredienti Mi sembrano tutti giustissimi Mi appassionano sempre Le trame Poi Nella realizzazione C'è sempre qualcosa Che non mi va giù Non mi piace E questo poi È un caso Particolare Che non mi è piaciuto Sfacello racconta La storia Di un uomo Ci troviamo In una Parigi Futuristica In cui ci sono Questi materiali Alternativi In plastica Trasparente Quindi Questa plastica Che è un po' Ovunque Questo mondo Iper Tecnologico Quest'uomo Si trova a Parigi E va lì Perché è innamorato Di una giovane donna Che spera di Diventare famosa In tv Attraverso la televisione Succede però Qualcosa Perché c'è una guerra In corso Tra due superpotenze E questa guerra Ha degli esiti Catastrofici Che si riversano Innanzitutto Si presentano come una mancanza Di elettricità E quindi questo porta A delle conseguenze Si distrugge Ma nell'immediato Cioè nelle ore Successive A questa mancanza Di energia elettrica Già la società Si distrugge Proprio ogni vivere civile Viene a mancare Ci sono queste scene Cominciano queste scene Di follia collettiva Gente che cammina Indosso altra gente E sono anche un po' Splatter Cioè questi Si uccidono In maniera così facile Senza nemmeno riflettere E quindi poi all'improvviso Diventa tutto Un sopravviviamo Ma nell'arco di poco Diventa un altro mondo Post apocalittico Cioè l'apocalisse E è mancata la corrente E da lì Non si capisce più nulla E quindi Quest'uomo Adesso non mi ricordo Nemmeno i nomi Proprio perché Non mi è piaciuto Deve Cercare Un nuovo Una nuova terra Da abitare E parte insieme A un gruppo di persone In questo viaggio Poi c'è anche Una specie di palazzo Incantato Stregato Cose folli Tipo Un uomo Che si crede Gesù Quindi è peggiora Sempre di più Parte in un modo E poi Non si capisce Dove voglia andare A parlare Cosa ci vuole raccontare Proprio il gusto Di raccontare cose Di raccontare cose Assurde Personaggi Incoerenti Perché quest'uomo Come è partito Io non mi sarei mai Aspettata Che poi Nel finale Questo personaggio Avrebbe preso Questa piega Non ha coerenza Secondo me Non c'è nulla Non c'è nulla di coerente La società Che racconta All'inizio Non è quella Che racconta All'inizio Ho capito Che c'è stato Questo cambiamento Ma non è ben Modulato Non è graduale È tutto assurdo È tutto paradossale È tutto estremo Io l'ho trovato così Se voi l'avete letto E avete trovato Altri significati Ma ditemelo Perché io veramente L'ho odiato L'ho finito solo Perché era breve Non mi andava Di lasciare un libro In sospeso Ma anche la scrittura La trovavo sempre Assurda C'era tutto Un girare gli occhi Un dire Bah Quindi Una stellina Almeno questo Non ve lo consiglio Un libro in meno Magari da mettere in lista Veniamo invece Ha un romanzo Che vi consiglio Assolutamente Ne ho parlato anche su Instagram Ho fatto anche un post Ed è L'assassino cieco Di Margaret Atwood Margaret Atwood Autrice canadese Nota per I racconti Dell'ancella E i testamenti O il testamento Che è il continuo Io ho letto Questi due romanzi Mi sono piaciuti Per l'idea Ma non mi hanno Entusiasmata più di tanto Però l'autrice Insomma La volevo Conoscere meglio Lei ha scritto Molti titoli E l'assassino cieco Ce l'avevo In libreria Da un po' Anche questo Il titolo della mia lista Sfida dello scaffale Estrabordante Ho deciso di leggerlo È un romanzo Di circa 600 pagine Ma che vanno giù Molto facilmente È una storia A più livelli Ci troviamo Romanzi Nei romanzi E attraverso Questo expediente Narrativo Abbiamo un romanzo Di formazione Un romanzo storico A parlare A parlare a Iris Chase Una donna Di più di 80 anni Che rievoca Tutta la sua vita Racconta La storia in particolare Di Laura La sorella Morta a 25 anni Suicida Si alterna Quindi il racconto Di Iris Che ricorda La sua vita E quindi fa riferimento Alla sua infanzia Ma anche a fatti Accaduti prima Della sua nascita A questo romanzo Che Laura ha scritto Che è L'assassino cieco Un romanzo Pubblicato Possumo nel 1946 Perché Laura È morta nel 1945 Che ha avuto Un grande successo Ma soprattutto È diventato Un oggetto di culto Per la storia Dell'autrice Che è morta Giovani e suicida Quindi c'è Questa cornice All'interno di questa cornice Abbiamo anche Ritagli di giornali Che in qualche modo Anticipano Quelle che saranno Le vicende narrate Poi Nella storia Di Iris E poi abbiamo L'assassino cieco Che è un romanzo Molto particolare Inizia con Questi due giovani Amanti Si capisce che loro Si vedono Segretamente Si incontrano In parchi In luoghi appartati Non si capisce bene Perché all'inizio Questi due amanti Lui scrive Delle storie Di fantascienza Palpa Per sopravvivere Perché poi scopriamo Che si sta nascondendo Per motivi politici Queste storie Di fantascienza La palpa Sono un po' Così insomma Un po' Diciamo Commerciali Storie scritte Tanto per scriverle Infatti Comincia proprio All'inizio Con lei che dice Mi vuoi raccontare Una storia Che ci mettiamo dentro Mettiamoci questo Mettiamoci quello Lui inizia Lui inizia a raccontare Questa storia Ambientata su un altro pianeta Quindi all'inizio Ero un po' Stranita Da questa storia Di questo assassino Ciego Su un altro pianeta Non riuscivo a mettere Insieme Tutti questi elementi Ma è proprio quello Il bello del romanzo Perché piano piano Riesce a capire Tutto quello Che vuol dire Che cos'è questo romanzo Nel romanzo Che cos'è il romanzo Di Laura Che cosa rappresenta E attraverso Questa Struttura narrativa Così complessa L'autrice però Ci racconta anche Del Canada Di inizio novecento In particolare Degli scioperi Sindacali degli anni trenta Perché Iris e Laura Provengono da una famiglia Molto ricca Di industriali Che hanno Cominciato la loro fortuna Fabbricando bottoni Poi si sono allargati Anche indumenti intimi Ma le cose Dopo la crisi del ventinove Peggiorano E Iris è costretta A sposare un uomo Un altro industriale Per salvare Il patrimonio Della famiglia Iris e Laura Sono molto legate Nonostante siano passati Tanti anni Dalla morte di Laura Iris continua A evocare La sorella Sono due caratteri Molto diversi Laura ha questa tendenza Alla spiritualità All'innocenza All'ingenuità All'amore Verso il prossimo Perché si dà molto Anche ad azioni Di beneficenza Di volontariato E Iris invece Viene vista come quella Un po' più Scaltra Che si sposa Per convenienza Ma poi vedremo Quali sono le caratteristiche In comune Delle due sorelle E quanto le loro voci Poi si fondano In una sola È una storia Che mi ha coinvolta Molto Mi ha sorpreso Ovviamente Devo dire che A tre quarti del libro Si capisce Insomma Il mistero si capisce Ma non è quello Il punto È la capacità Di mettere insieme Tanti elementi Che sono appunto Il racconto Dello sfondo storico E sociale Del canale Degli anni 30 La difficoltà Di un rapporto Tra due sorelle Lo sfondo Proprio Storico Delle guerre mondiali Perché il nonno Poi ha partecipato Alla grande guerra E anche In qualche modo Il noir Questo mistero Che si cela In tutte queste storie Che pian piano Si aprono Con un finale Veramente bello Che si apre Poi al futuro E riprende Quei legami Di sangue Io l'ho amato Particolarmente Sono stata felice Di averlo letto Perché mi ha fatto Rivalutare Margaret Atwood Che non era Diciamo Tra le mie scrittrici Preferite Quando ho letto I racconti dell'ancella Adesso voglio Assolutamente Leggere l'altra Grace Che ho in ebook E vi farò sapere Quindi se manterrà Le aspettative O meno Quello che mi piace Di questo libro E come ho detto Su instagram E che quando Scegliamo un romanzo Spesso Cerchiamo tante cose Non sappiamo Nemmeno noi Che cosa E in questo romanzo Io l'ho trovata Tutte Cioè proprio Il coinvolgimento La scrittura Il romanzo Di formazione Il romanzo storico Ho trovato Tutti quegli elementi Che cerco In un romanzo Quindi Ve lo consiglio Assolutamente Non se ne parla Tanto in giro Spero che Qualcuno Lo legga E se l'avete già letto Fatemi sapere Cosa ne pensate Ci siamo quasi Mancano soltanto Due libri Sarò veloce Il primo E un altro saggio Teoria della classe disagiata Di Raffaele Alberto Ventura Edito Minimum Facts Nasce nel 2015 Come riflessioni su internet Viene poi messo Assemblato insieme Nel 2019 È un saggio economico Sociale Su la classe disagiata Chi è la classe disagiata? Innanzitutto Una riflessione sul titolo Che rimanda a un saggio Di un economista Veblen Che scrive Teoria della classe agiata Facendo riferimento Alla borghesia L'autore ha voluto Parafrasare questo titolo Appunto Definendo la borghesia Attuale Come una classe disagiata Perché disagiata? Lui ci parla Dei millennial Sostanzialmente Della difficoltà Che hanno avuto Nel nascere E crescere In un ambiente Che Li vedeva protagonisti Li vedeva pieni di speranze E poi Si sono scontrati Con una realtà Che invece Ha procurato Loro molto disagio Sapevo che questo saggio Metteva insieme L'economia E la letteratura Ma devo dire Che la parte dell'economia È molto consistente Quindi Io non sono molto pratica Di tutte queste teorie economiche Ho fatto un po' di fatica Però Mi è piaciuto molto La riflessione La riflessione Che può essere condivisibile O meno Sotto alcuni punti di vista In particolare Le parti che mi hanno spinto A più a riflettere Sono quelle relative All'istruzione Al mondo dell'intrattenimento In generale Alla cultura L'autore Sull'istruzione Dice delle cose Molto forti Arrivando quasi a dire Che alla fine Non serve istruire Tutti quanti Siamo più istruiti Perché siamo più ricchi O siamo più ricchi Perché siamo più istruiti Questa è la domanda Che si pone l'autore Dicendo che alla fine Non abbiamo una risposta Definitiva Ma soprattutto Che la macchina Dell'istruzione Crea nuove illusioni Per un mondo Che non riesce Per soddisfare Le aspettative Di tutte le persone Istruite Quindi Molto duro Ma anche Secondo me Parla dell'istruzione In una maniera Diversa Rispetto a quello A cui siamo Abituati Perché L'istruzione In vista quasi Come un mostro Non si tocca Non si parla solamente Da un certo punto Di vista Invece lui Va a scardinare Alcuni principi Sia indivisibile O meno Devo dire Che però Quando c'è Un punto di vista Così contrario Rispetto all'opinione Comune Ti spinge A rivedere A ripensare Ad alcune cose Questo mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto Anche La sua riflessione Sull'industria Dell'intrattenimento Lui parla Dei prosumer Io non avevo mai sentito Questa Espressione Ignoranza mia Sono produttori Consumatori Cioè Praticamente Noi Quello che faccio Anch'io Con il canale E che fanno Anche tante altre persone Cioè Consumatori di cultura Che però A loro volta Producono Qualcosa Che ha a che fare Con l'intrattenimento Allora dice Perché sentiamo Questa esigenza Non solo di consumare Ma anche di produrre Poi contenuti I social appunto Sono il content creator Che è qualcuno Che crea contenuti Quindi che produce E consuma Produce E consuma Non ci limitiamo più Soltanto a consumare Ma vogliamo In qualche modo Anche produrre Provocando poi Soprattutto rispetto Alla cultura Un appiattimento Orizzontale Insomma Dei contenuti Culturali E anche questo Ovviamente Fonte Di riflessione Fatemi sapere Se conoscevate Questo termine Prosumer E che cosa ne pensate Ultimo titolo Uva Spina Uva Spina Di Monica Acito Un romanzo Edito Bonpiani Proprio quest'anno Sono stata A Napoli Città Libro Il 16 aprile Di quest'anno E sono andata A vedere La presentazione Di questo romanzo Perché l'avevo visto Un po' in giro Ed ero curiosa Tra l'altro Prima ho parlato Proprio nel book haul Perché è uno degli acquisti Recenti Che ho anche letto Quindi sono particolarmente Fiera Allora Di che cosa parla Uva Spina È la storia Di un ragazzo Che ha questo Si chiama Carmine Riccio Ma viene chiamato Uva Spina Volubile Una Imprevedibile E anche molto Violenta Mi avevo incuriosito Perché Alla presentazione Si parlava Di questa lingua Nuova E devo dire Che la lingua Dicevano Che fosse barocca Quindi Che unisse Il dialetto A picche Poi di Grande Insomma Letterarietà Io non l'ho trovata Così Cioè Il dialetto Prevale Anche se non è Dialetto Scritto In maniera Dialettale Napoletana Più si avanza Nella storia Più Questa Espressione Dialettale Prende il sopravvento E quindi Diventa anche Sgrammaticato Diventa Una scrittura Che a un certo punto Fai fatica A sopportare Sarà che io Di mestiere Correggo I compiti Quando trovo L'espressione Dialettale Devo correggere Quindi Leggere Pagine e pagine Di espressioni Dialettali Termini Dialettali A un certo punto Per me È diventato Faticoso Un po' Io ci ho visto Nella presentazione Non si è parlato Di Elena Ferrante Ma io L'ho vista L'ho vista In minuccia Perché Appunto Questa ragazza Che ha Un potere Sugli altri Che però Ha questo dark side Insomma Da quando c'è stata Lila Nella letteratura Italiana Poi sono nati Tutti questi personaggi Che in qualche modo Rimandano A questa figura Di Lila Così affascinante Ma anche Così cattiva Elena Ferrante Ha saputo Però Così c'è che criticano Molto spesso Coloro che non amano Elena Ferrante Perché Troppo Alcuni Ho sentito dire È dialettale Elena Ferrante Scrive in italiano Totalmente in italiano Non usa il dialetto Mai Nemmeno nei dialoghi Può esserci qualche parola Ogni tanto Ma sono poche Qui invece Il dialetto Prevale Quindi È come Cioè Chi Non ha amato Elena Ferrante Questo non lo può Proprio leggere Perché Non è Assolutamente Secondo me Nei suoi gusti Quindi questa lingua Dicevo Mi ha fatto faticare Un po' La storia Devo dire che In qualche modo Di cattura È disturbante Molto Perché L'autrice Indugge In particolari Volutamente Fastidiosi Quindi Quando mangiano Mettono le mani in bocca Questa bocca sporca di cibo Dettagli sessuali Molto forti Molto spinti Molti dettagli Sul corpo Sulle funzioni corporali Quindi Questo è sicuramente Molto disturbante Rapporti familiari Assolutamente Improntati Alla violenza Alla sovraffazione Anche questo È disturbante Ma in qualche modo Ti affascina E ti conduce Poi verso Verso la fine Quello che Non mi è piaciuto È che Come se avessi trovato Disseminati Troppi indizi Letterali Cioè Per esempio Minuccia Viene rappresentata Dallo strumolo Dallo strumolo Ha concretamente Questo strumolo Con lei Gioca Con questo strumolo Quindi l'oggetto Strumolo Minuccia Uva spina E l'uva spina E il succo Quindi l'ho trovato Troppo un esercizio Di scrittura Anche Proprio come è condotta Tutta la storia Ebbene il finale Secondo me Non è più Uva spina Il protagonista Perché viene liquidato Un po' Il finale di Uva spina Ma è Minuccia Cioè noi sappiamo Che fine fa Minuccia Ma il finale di Uva spina Non ci viene Raccontato Tra l'altro Minuccia Uva spina È omosessuale Ha questi atteggiamenti Molto effeminati Per i quali Viene preso in giro Ma è anche molto bello Molto bello E quindi questa sua bellezza Fa ingelosire Minuccia Che poi dà il peggio di sé Quando si accorge Che il fratello È molto più bello di lei Lei che invece Si vede sempre Con i capelli Sottili Con un po' Di pancetta Quindi non si vede Mai bella Poi c'è il personaggio Della spaiata Che insomma Fa un po' pena Perché Nel senso di compassione Perché Suscita la compassione Del lettore Insomma Ci sono tanti Tanti personaggi Una storia Che cattura Per la trama È sicuramente Originale Una voce originale Su questo Non ci piove Però bisogna capire Se poi piace La cosa originale O se invece No Invece piace Uno stile Più tradizionale Come mi capita Altre volte Per esordienti Magari I romanzi Viacciono all'inizio Poi nella seconda parte Cala un po' L'attenzione Però insomma Sono È un romanzo Di un esordiente Quindi Magari Aspetteremo Qualche altro Qualche altro Titolo Questo Ve lo consiglio Se vi interessa La Napoli Anche un po' Anche un po' Misterica Raccontata attraverso Delle suggestioni Se vi può interessare Questo Scenario E se vi interessano Le storie crude Raccontate Con un linguaggio Nuovo Diverso Dal solito Le storie Che non hanno Alcun Alcun pudore In alcuni momenti Bene Io penso di aver finito Sto parlando da un'ora Sono anche Un pochino stanca Spero Che Questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Se vi ho dato Degli spunti di lettura Se avete letto Dei titoli Che ho nominato E Spero di Rivederci presto Con Altri contenuti Io vi ringrazio Alla prossima